Carciofi, carciofi... Lo sai quanti tipi di carciofi ci sono in Italia? Ma tu non hai mai cucinato un carciofo? No. E allora vieni con me. In cucina l'istinto è importante. Tu sei pronto a seguirlo? Ingredienti. Carciofi, aglio e fusilli. Belli. Fusilli integrali. Guardate che bel colore. Dorato. Avvolgente. Cattura. È un po' ladro. Poi vi spiego il perché. Allora come prima cosa dobbiamo usare un aglio nazionale. Per ottenere questa crema d'aglio. A questo punto mettiamo un tuorlo d'uovo. Diamo una bella mescolata con il tuorlo d'uovo. Poi mettiamo della panna montata. È come fare una crema pasticciera, no? Ecco qua, guardate quanto è bella. Questo è il primo passaggio. Accendiamo il fuoco. Mettiamo un filo d'olio. Prendiamo dei carciofi che già abbiamo pulito e li abbiamo messi in acqua e al limone. Guardate, non si è scurito. È molto importante qua il taglio perché più sottile è e più cucina prima. Mi ricordo quando andavo in giro con mio padre e vedevo sui marciapiedi per strade che cucinavano, arrostivano questi carciofi. Guardate che street food di ora. 50 anni fa facevamo lo street food a Napoli. Un po' di pepe e sale. Mettiamo un po' di brodo. Allora, butto la pasta. Sti fusilli integrali sono buoni e poi sono belli dorati, ruvidi. Belli! La crema già ne mettiamo un pochino per insaporire, per capire bene l'istinto che ti guida. Poi abbiamo fatto sempre con il carciofo delle chips bellissime, sentite? Il fusillo tu lo guardi e quando è stato solo è arrabbiato perché non sto prendendo niente, solo acqua. Se c'è una cosa che ho imparato in cucina è sapere ascoltare gli ingredienti. Questo è che ti assorge. Questo è un fusillo che ha circa 11 minuti ma noi a 9 minuti già togliamo dall'acqua. Mettiamo un po' di prezzemolo tritato, un po' di olio all'aglio, un po' di sale. Vedi il ladro? Si sta amalgamando insieme a queste carciofi che è una delizia. Mettiamo un po' di crema d'aglio sotto. Mettiamo del pecorino, mettiamo delle chips e un po' di olio all'aglio. e voilà. Lo sai cosa fa la differenza in cucina? È l'istinto. È proprio buono. Un esempio è dischi. Inop expectations, sì? est ogr shackle subito. c'è un po' di tego più oggi, sono iniziato da pensare l'aglio, le buamo sul vero allo dell'aglio. Ho spunto il nostro lavoro ed io Grazie a tutti